ah beh qualche giorno fa ho commentato questi video che ha pubblicato bigrami sul suo profilo instagram dicendo che sono ovviamente dei video vecchi più che altro perché a parte la faccia che si vede che era più giovane ma soprattutto per la schiena perché c'è ancora un po di parte bassa cioè di lower back che come ben saprete io tendo sempre a notare nei bodybuilder perché secondo me una parte importante della schiena il back double bicep è la posa più importante nel bodybuilding se ti manca non dico metà ma un buon terzo della schiena qualcosa non va quindi avevo sentenziato che questi fossero video vecchi soprattutto per questa cosa della schiena poi ho ipotizzato il suo possibile ritorno se gareggerà quest'anno quando gareggiato l'ultima volta tutte queste solite cose di cui parliamo sempre quando parliamo di bigrami però la sentenza è sono video vecchi la schiena di bigrami non è così poi quando abbiamo l'altro visto la scelta di tour ci ha svelato in anteprima credo mondiale per queste foto non le ho viste nessun'altra parte questa forma di bigrami lui ha detto di quattro giorni prima quindi oggi sarebbero sei giorni prima a 160 kg quindi un bigrami forse non l'ho mai visto così grasso o almeno non ho mai sentito che fosse così grasso infatti se avete visto il video faccio il segno delle virgolette dicendo grasso perché comunque non è grasso ma molto molto pieno almeno da come sembra dalle foto che ci ha fatto vedere Patrick quindi se bigrami pesa ad oggi 160 kg vuol dire solo una cosa che vuole gareggiare non penso che per sport o per piacere voglia essere così pesante perché dubito che sia una vita facile una vita comoda la definizione sembra praticamente assente chiaramente sono screenshot fatti da un video registrato sul computer quindi non ho le immagini ufficiali che ha Patrick sul telefono però non sembra definito sembra molto lontano da una condizione da palco però se il rami pesa 160 kg vuol dire che vuole gareggiare e se vuole gareggiare vuol dire che vuole fare l'Olimpia perché non avendo fatto l'Arnold dubito che faccia qualche garettina parrocchiale prima dell'Olimpia anche perché è già qualificato non ha bisogno di fare altre gare e garette tra virgolette perché se un bodybuilder che ha vinto l'Olimpia due volte chi è arrivato secondo nel 2017 che comunque ha il suo palmarès non penso che abbia alcun interesse a gareggiare in altre gare se non all'Olimpia però come ho detto anche nel video che ho fatto lunedì se non sbaglio io penso che sarà la sua ultima o penultima apparizione all'Olimpia perché da quando ha perso poi nel 2022 poi non ha più gareggiato si è presentato in una condizione al di sotto di quanto ci aspettavamo essendo il campione in carica è stato davvero detronato e messo nelle retrovie cioè neanche secondo o terzo se non sbaglio ed è arrivato quinto correggetemi ma io vado sempre a memoria quando faccio i video non faccio la ricerchina scolastica e vado a riguardare le cose mi piace parlare un po' così da bar io credo che gareggiata quest'anno ma non credo che possa fare meglio di un quarto o di un quinto posto cioè do per scontato a di ciupane delle clans fuori nei primi posti e do abbastanza per scontati Samsung Dauda terzo e quarto non in quest'ordine cioè sto dicendo qualissima secondo me le posizioni quindi Rami se davvero vuole fare qualcosa di notevole deve arrivare ultra definito senza quei problemi che ha avuto quell'anno e negli ultimi anni ma come ho già detto la schiena non penso migliorerà mai più cioè ha un buco credo che sia un danno nervoso quando la gente ha di questi problemi non li risolve e quei primi quattro hanno tutti e quattro delle ottime schiene chi più chi meno hanno delle ottime schiene con Derek che è la migliore Nick ha lo stesso un'ottima schiena la schiena di Samsung è migliorata e pure Adi si difende bene di schiena pur non avendo la densità nella parte centrale che ha magari un Derek Lansford quindi io credo che Rami debba fare davvero i compiti a casa se vuole fare qualcosa di concreto non penso che rincerà mai più l'Olimpia però penso che possa piazzarsi bene se si impegna salvo questo problemino della bassa schiena che credo che sia un problema molto grosso almeno per quanto mi riguarda è un bel problema però c'è tempo se l'Olimpia penso sia scontato che la vedremo gareggiare come detto non penso che voglia stare a 160 kg così per passione o per comfort perché non credo proprio che sia una vita comoda pesare così tanto però vedremo c'è tempo da qui l'Olimpia se non sbaglio forse dovrebbe fare anche il Peace Group Pro il guest posing che fanno ogni anno a maggio quindi correggetemi se sto sbagliando e vedremo tra una decina di giorni buona ciao 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 Grazie a tutti.